E' attivo da oggi il nuovo ambulatorio a gestione integrata per il monitoraggio di patologie croniche come diabete e ipertensione. Sì, vogliamo offrire ai cittadini della città di Caltanissetta, ma in senso lato a tutti quelli del distretto o dei paesi limitrofi, sempre più servizi territoriali che permettano di gestire malattie che poi alla fine hanno e debbono avere una valutazione polispecialistica. Il diabete e l'ipertensione sono proprio due delle malattie più frequenti. Nella sola città di Caltanissetta ne abbiamo più di 3.200, con un incremento di 300 diabetici all'anno. Questo ha un costo per il sistema sanitario regionale, ma soprattutto un diabete che non è trattato, che non è monitorato, determina una bassa qualità della vita per i pazienti. E noi vogliamo occuparci di questi pazienti. Quindi abbiamo deciso di attivare presso il polembulatorio di Via Malta, in cui esiste il PTA, che è il punto territoriale di assistenza, un ambulatorio a gestione integrata, nel quale verranno monitorate queste due patologie, il diabete e l'ipertensione. Vogliamo che la gente venga direttamente presa in carico da noi, insieme alla collaborazione preziosa che svolgono i medici in medicina generale, e possa essere eseguita in tutte le fasi dell'evolversi della patologia. In una prima fase funzionerà il martedì, il giovedì e il sabato, dalle 9 alle 13. Abbiamo un numero di telefono che è lo 0934 506 808, nel quale gli utenti potranno chiamare e portano pure prenotarsi. Non escludo di ampliare l'offerta man mano che ce ne dovesse essere necessità. Come si potrà accedere? Allora, si potrà accedere tranquillamente, è un accesso libero. E' evidente che saranno i medici in medicina generale o qualunque altro presidio, come un pronto soccorso, un BPI, che debba rendersi conto che la persona va valutata in maniera più attenta e più particolareggiata, che potrà dire al paziente di recarsi presso questo ambulatorio o direttamente prenotare lui, mettendosi in contatto con il medico responsabile. Come è andato il primo giorno di lavoro in questo ambulatorio? Primo di giorno di lavoro? Devo dire bene, perché ovviamente daremo il tempo di diffondere la notizia che la gente venga a conoscenza. Intanto abbiamo svolto già due visite, ci sono già delle prenotazioni sia per sabato che per il prossimo martedì. Io credo molto in questa attività e penso che possa essere un grande sostegno per i pazienti diabetici e ipertesi, i pazienti che sono sempre più giovani ad essere coinvolti nella patologia e potremmo essere quell'anello di congiunzione tra il medico curante e lo specialista diabetologo e dare la possibilità di essere seguiti e accompagnati per mano in questo percorso.